nel 2019. Pensate, ha cominciato la ginnastica, ovviamente a livello ludico, a un anno a Soteville-le-Rouen, in Francia. Entrata di sicurezza anche per lui, un colpo di petto per iniziare poi dalla verticale, i primi elementi. Colpo di petto dietro fronte, sempre colpo di petto di Amidoff. Perde un po' la linea delle gambe, Carmine. Sì, cerca poi di recuperare con questa controchip con mezzo giro e una seconda controchip in verticale. Bene anche il Makus, tre quarti di Amidoff e Ili. Amidoff. Amidoff con mezzo giro e poi dal colpo di petto in verticale. Vediamo se dopo Ili ci sarà un doppio Carpiato o un doppio in avanti, doppio indietro Carpiato. Brutti passetti. Io direi, Carmine, che la classifica, almeno per quanto riguarda...